ciao a tutti e bentornati su youtube e sul blog arte del food è iniziato un nuovo mese e di conseguenza una nuova rubrica nel mese di dicembre innanzitutto benvenuto dicembre il mese forse più uno dei mesi secondo me più belli dell'anno in quanto c'è natale e questa in questo mese tratteremo come argomento degli articoli il food train 2022 ovvero quali ingredienti e cibi sono stati diciamo più utilizzati e che simboleggiano tutto il 2022 in questa prima settimana di dicembre abbiamo parlato di giornata della mondiale della disabilità i piatti tipici natalizi sia italiani che nel mondo e meno alcol e stesso gusto spero che ti siano che vi siano piaciuti e che siano interessanti se non li avete ancora letti come al solito nella descrizione del video trovate il link della home il link degli articoli della settimana e il gruppo telegram quindi se non li avete ancora letti correte a leggerli vi ricordo di commentarli e di farmi sapere insomma cosa pensate credo e penso che siano trattati a 360 gradi tutti e tre gli articoli e niente aspetto il vostro parere vi saluto e vi aspetto domenica prossima con la nuova settimana e fatemi sapere anche magari per quanto riguarda i piatti tipici quali vi piacciono di più a voi ciao